Nuovo appuntamento con le notizie di oggi a Nord-Est. Le forze dell'ordine hanno effettuato 3.984 controlli sulla mobilità delle persone in Friuli, Venezia e Giulia e di queste ne hanno sanzionate 146 denunciando una per il reato di falso e nove per altri reati. Sono stati inoltre controllati 1.376 esercizi commerciali e tre titolari di queste attività sono stati sanzionati e il bilancio diffuso dalla Prefettura di Trieste. In Veneto non si ferma la progressione del coronavirus che anche questa mattina ha fatto registrare 110 nuovi casi di positività per un totale di 14.624. Lo riferisce l'ultimo report della Regione Veneto che aggiorna con sette vittime il bilancio dei decessi cresciuti a quota 940 tra ospedali e RSA. Buoni segnali arrivano invece dalle situazioni di Venezia e Rovigo che oltre al cluster di Ibo segnano zero nella casella dei nuovi contagi. I pazienti in terapia intensiva sono 219 più 1, quelli ricoverati in area non critica 1.402 meno 12, i soggetti negativizzati 2.895. I carabinieri del NAS di Udine hanno eseguito in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della locale ASL un'ordinanza di sospensione dell'autorizzazione di una struttura per anziani e l'immediata evacuazione dei 21 ospiti alloggiati, tutti positivi al Covid-19. Gli anziani sono stati tutti ricoverati in strutture sanitarie idonee per la cura dell'epidemia. La sospensione è stata disposta poiché a seguito delle verifiche effettuate sono emerse gravi carenze organizzative nella gestione della struttura. Sono 67.991 le richieste per l'erogazione del bonus da 600 euro giunte nei giorni scorsi all'Inps FWG. Di queste, informa una nota dell'Istituto di Previdenza, 43.719 sono state messe in pagamento da oggi, ovvero il 64,3% delle domande pervenute. Per altre 9.000 domande, pari al 13,4% del totale, fa sapere l'Inps, è in corso la verifica istruttoria per l'accertamento dell'Iban. Nel dettaglio a Gorizia sono state presentate 7.092 richieste di bonus, di cui già 4.479 messe in pagamento. A Pordenone le domande sono state 17.611, di cui 11.601 già liquidate. A Trieste il dato è di 9.648 richiedete pervenute e di 6.199 messe in pagamento. Infine, 33.640 le istanze presentate in provincia di Udine, di cui già 21.360 liquidate. Ed ora la linea passa alla redazione di Treviso. Montebelluna, donna, corre completamente nuda in strada. La giovane ha percorso poco più di 500 metri, prima di essere bloccata dai volontari della protezione civile ed essere trasferita in ospedale. Coronavirus dopo le case di riposo, via i test nei centri per disabili. Completati i test nelle case di riposo della provincia, i controlli dell'Urs 2 continueranno nei centri per disabili. 216 nuove assunzioni e riparte quindi il cantiere della cittadella della salute. Paga di un euro all'ora per lavorare nei campi. Quattro arresti per caporalato. La squadra mobile della questura di Forlì è eseguita a quattro ordinanze di custodia cautelare. È stata coinvolta anche la provincia di Treviso. I lavoratori costretti a dormire in un casale abbandonato. Coronavirus ripartita. La manutenzione del verde pubblico a Treviso. Al via anche i lavori per la nuova illuminazione della strada comunale di San Vitale. Lento ritorno alla normalità, quindi nel rispetto delle norme di sicurezza contro il contagio. Cambio gombe in Verdali. C'è l'obbligo, scatta appunto l'obbligo nonostante il coronavirus. Quindi da oggi, mercoledì, 15 aprile fino al 15 maggio, gli automobilisti italiani sono chiamati a sostituire i pneumatici invernali con quelli estivi. Si rischiano pesanti sanzioni. Rosario Moreno, Treviso per Radiodiffusione Europea. Oltre 350 mila euro da parte di Bofrost Italia per sostenere con l'acquisto di attrezzature sanitarie, più di 50 ospedali su tutto il territorio nazionale impegnati nella cura dei pazienti affetti da Covid-19. È l'iniziativa Insieme Siamo una Forza, avviata all'inizio di marzo dalla più grande azienda italiana di vendita a domicilio di surgelati, operazione che si concluderà sabato 18 aprile con i primi versamenti. Uno sforzo che ha visto uniti l'azienda, i venditori impegnati a promuovere capillarmente l'iniziativa e soprattutto i clienti Bofrost di tutta Italia che hanno dato prova di grandissima generosità, ha spiegato l'amministratore delegato Gianluca Tesolin. In poche settimane infatti si è riuscita a mettere insieme una cifra importante indirizzandola alle realtà che più ne hanno bisogno. Un ospedale per ogni filiale individuato è contattato preventivamente dal personale delle filiali e adottato quindi dai clienti che hanno potuto fare delle donazioni per rispondere in modo concreto a questa emergenza sanitaria. Le strutture che beneficeranno delle donazioni sono in tutta Italia. In spiaggia su prenotazione per garantire la sicurezza di tutti è la proposta per il sindaco di Iesolo Valerio Zoggia che formulerà ufficialmente il 16 aprile ai rappresentanti delle varie categorie economiche nel corso di una videoconferenza Iesolo con circa 6 milioni di presenze stanziali l'anno e una delle stazioni balneari con il maggior numero di ospiti in Italia. A questi si aggiungono i turisti pendolari per i quali non c'è un dato ufficiale. Sfruttiamo la tecnologia e attiviamo un'app aggiunto che permetta di accedere alla spiaggia soltanto dopo aver prenotato e scelto il proprio posto privilegiando l'aspetto sanitario e del distanziamento sociale. Pensiamo a concluso che possa essere questa la soluzione per l'estate 2020. Noi siamo contro i turisti nelle scatole di plexiglass. Parte da oggi la comunicazione in tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia attraverso un audio messaggio trasmesso dagli altoparlanti dei mezzi della protezione civile e delle prescrizioni governative regionali sui comportamenti da adottare relativamente all'emergenza coronavirus. Si tratta di un'operazione che coinvolge i volontari dei gruppi comunali della protezione civile e ha la funzione di sensibilizzare la popolazione sull'importanza delle misure di prevenzione adottate che, come è stato dimostrato finora nella regione, sono essenziali per contrastare il contagio. Lo ha comunicato a Palmanova il vice governatore con delega alla salute e alla protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, dalla sede della protezione civile regionale. Tra i contenuti dell'audio messaggio inviato dalla direzione di Palmanova ai gruppi comunali, in primo luogo, si ricorda l'obbligo per l'utilizzo di protezioni a copertura di naso e bocca quando si esce dalla propria abitazione. Viene anche ribadita la raccomandazione di mantenere sempre la distanza di sicurezza e di evitare in modo assoluto gli assembramenti. Di particolare importanza, la novità introdotta sull'attività motoria che viene consentita esclusivamente in forma individuale e solamente nei pressi della propria abitazione. Io amo il Friuli Venezia Giulia, io resto a casa. Io amo il Friuli Venezia Giulia e io resto a casa. Ciao ragazzi, anche io amo il Friuli Venezia Giulia e anche io resto a casa, ok? Anzi, io resto in radio. Io amo il Friuli Venezia Giulia e resto a casa. Adoro il Friuli Venezia Giulia, appena potrò verrò a trovarvi, ma per adesso io resto a casa. Ciao a tutti, io amo il Friuli Venezia Giulia e resto a casa. Io amo il Friuli Venezia Giulia e resto a casa. Restiamo tutti a casa. Compi anche tu un gesto d'amore. Resta a casa. domani sul Friuli Venezia Giulia, cielo sereno, poco nuvoloso per il passaggio di velature. Venti a regime di brezza, ancora relativamente freddo al mattino in pianura e fondo valle, mentre in quota temperature positive, con zero termico oltre i 3.000 metri, temperature massime in aumento. Passiamo al Veneto, in prevalenza sereno al più poco nuvoloso, per passaggi di nubi alte, assenza di precipitazioni, temperature minime stazionarie o in ulteriore diminuzione in pianura, in aumento in quota, stazionarie in alcuni fondo valle prealpini, massime in generale aumento. Previsioni a cura di ARPA FWG Meteo e di ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto. Per il momento dal nord-est è tutto. Appuntamento alla prossima edizione. Appuntamento alla prossima edizione.